vabbè ragazzi siamo al buietto qua perchè i luci hanno deciso di smettere di funzionare così da un momento all'altro e sono pronto per andare a lavorare nei campi come volete vedere felpa tutta sporca di cartongesso doppia felpa tutta sporca di cartongesso e niente comunque questa qua è la batteria una delle tre batterie del solare 12 volt lithium iron ferro lithium iron phosphate deep cycle battery bla 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 30 ampere ora praticamente questa qua la batteria che ho utilizzato con il mio schermo da laptop modificato per farmi luce mentre lavoravo sono la seconda batteria me ne rimane una completamente carica e ce n'ho qua una scarica problema è che per montarla nel sistema fotovoltaico le batterie devono avere tutta la stessa carica se no tendono a sviluppare un gap sempre più alto più ampio esponenzialmente durante le varie ricariche quindi devono essere tutte lo stesso voltaggio la tutela stessa ben o male carica carica un'importante voltaggio e niente praticamente quindi ci volevo un caricatore come potete vedere ho recuperato è andato bene coltello da unboxing ovviamente recuperato il caricatore domenica domenica c'era non con genius far questo non box in spai più probabilmente potete vedere e niente abbiamo un altro caricatore sembrerebbe essere pretty fancy da le civette tutto al contrario da recensioni a ai voti diciamo che abbastanza anche poi sì sto coso costa 90 euro tranquillamente però me è andato bene l'ho trovato a 40 46 sembra una roba del genere 46 che alla fine c'è per le batterie al litio obiettivamente una parte importante del sistema perché sarà anche quello che utilizzerò in caso di mancanza di sole continuativa sarà quello che utilizzerò per caricare le batterie con il mio generatore di corrente a benzina grazie scatole c'è la scatola dalla scatola dalla scatola dalla scatola dalla scatola sicuramente è imballato bene la scatola dalla scatola dalla scatola dalla scatola da istruzioni abbastanza fatta diciamo praticamente qua abbiamo immagino un fusibile 3 di hand il caricatore unit questo qua non è un fusibile è un fast plug ovviamente per le pinzette che è come possibili opzionalmente c'è anche ci sono anche i cazzelli da abitare sulla batteria prossima spina e u plug e u come potete vedere e niente stanno tra unit andrei collegando non ci serve di scrivere completamente il cao il prezzo delle istruzioni allora qua vedo che c'è un tasto per selezionare la modalità 12 12 ci fa a chi si 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 fa a chi leggiamo rapidamente il libretto ma senza sicurezza bla 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 come usare per per la ricarica batterie inizioni di litio inclusiva di tipo sfatto quando selezionare la blu c'è un ritorno utilizzare lo scrivimento di un batteria con selezionare il bms si piaci che la batteria facciata sicuramente un bms quindi quando selezionare io devo selezionare prima di connettere le batterie allora ripeteremo il spinotto vediamo un po' com'è questo sistema di spinaggio prova di idiota le nostre pinzette andiamo a staccare cosa succederà accenderemo un algoritmo di natale ed è in stand by adesso noi andiamo a cliccare e rimane in stand by quindi pesce che dobbiamo attaccare le batterie selezionaremo un po' più selezionato lithium non fa nessun tipo di coil wine come potete vedere dice che è scaricherla che lo è sicuramente l'ho abusato di brutto però c'è da dire che sta batteria è lo sai for eh heavy duty heavy duty non mi ricordo un po' di cinque comunque dire che fin qua sono tutte vicine abbastanza rassicuranti e la batteria non sta spallando e niente grazie per acquistare sintetizzati e alla prossima grazie grazie Grazie.